Il servizio epidemiologico dell'ASP di Trapani ha confermato alla Direzione Sanitaria di Villa Betania l'Istituto Medico Psicopedagogico di Valverice gestito dalla Fondazione Auxilium la positività al Covid-19 dei quattro soggetti ai quali nei giorni scorsi era stato praticato il test rapido che ha un'affidabilità dell'85%. Tre dei quattro soggetti, due operatori in isolamento obbligatorio domiciliare e un giovane ospite anch'esso in isolamento sono asintomatici. Un quarto ospite, minorenne, ha fatto rientro in famiglia. Tutta la struttura è stata messa in sicurezza epidemiologica. Sabato prossimo tutto il personale e tutti gli ospiti di Villa Betania saranno comunque sottoposti a test da parte delle unità speciali di continuità assistenziale. Si svolgono invece regolarmente, nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria, le attività presso l'altra struttura della Fondazione Auxilium, il centro ambulatoriale di riabilitazione di Via Orlandini, come conferma il direttore generale Gerri Camarda. Il centro di Trapani, che è cosa diversa, sempre gestito dalla Fondazione Auxilium e quindi di proprietà della Fondazione Auxilium, il centro ambulatoriale di Via Orlandini, chiaramente opera regolarmente, non ha nessun caso di contagio e in ogni caso è una struttura che ha una diversa funzionalità e una diversa gestione dei flussi del pubblico. Per cui quello continua regolarmente l'attività, soltanto Villa Betania è interessata da questo caso di Covid e quindi dalla quarantena che stiamo attuando preventivamente.